Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll un tè fuori di sé davanti alla casa seduti a un tavolo sistemato sotto un albero la lepre marzolina e il cappellaio stavano prendendo il tè in mezzo a loro era seduto un ghiro semi addormentato su cui gli altri due tenevano i gomiti appoggiati facendo conversazione al di sopra della sua testa molto scomodo per il ghiro pensò Alice però visto che dorme forse non ci fa neanche caso il tavolo era grande ma i tre se ne stavano pigiati in un angolo tutto esaurito tutto esaurito presero a gridare scorgendo Alice che veniva verso di loro esauriti sarete voi disse Alice indignata e si sedette in un'ampia poltrona un capo del tavolo un goccietto di vino disse la lepre marzolina in tono incoraggiante Alice guardò bene tutto intorno ma c'era soltanto il tè io non lo vedo il vino osservò lei bella scoperta non c'è disse la lepre marzolina e allora non è stato da persona beneducata offrirmelo disse Alice indispettita o sei stata beneducata tu a sederti senza essere stata invitata disse la lepre marzolina non sapevo che la tavola fosse tutta vostra disse Alice è apparecchiata altro che per tre sarebbe ora che ti tagliassi i capelli disse il capellaio era rimasto a guardare Alice per un bel pezzo con grande curiosità e queste erano le sue prime parole non sta bene criticare gli altri disse Alice con una certa severità e da maleducati il capellaio sgranò gli occhi nel sentire ciò ma si limitò a dire che differenza c'è fra un corvo e un tavolino o adesso viene il bello pensò Alice sono contenta che comincino a fare gli indovinelli e a voce alta soggiunse ci si può arrivare vuoi dire che pensi di poter trovare la risposta disse la lepre marzolina proprio così disse Alice allora dovresti dire quello che pensi continuò la lepre marzolina lo faccio sempre rispose Alice d'un fiato almeno almeno penso quel che dico che è la stessa cosa no non è la stessa cosa per niente disse il capellaio sarebbe come dire che vedo ciò che mangio è la stessa cosa di mangio ciò che vedo sarebbe come dire aggiunse la lepre marzolina che mi piace ciò che prendo è la stessa cosa di prendo ciò che mi piace sarebbe come dire soggiunse il giro che sembrava parlare nel sonno che respiro quando dormo è la stessa cosa di darmo quando respiro ma è la stessa cosa per te disse il capellaio e qui la conversazione languì e i convitati rimasero in silenzio per qualche minuto mentre Alice passava in rassegna tutto quello che sapeva su corvi e tavolini cioè non molto fu il capellaio a rompere il silenzio quanti ne abbiamo oggi disse rivolto ad Alice aveva tirato fuori l'orologio di tasca e lo guardava perplesso scuotendolo di continuo e portandoselo all'orecchio Alice stette a pensarci un momento e poi disse quattro sgarra di due giorni sospirò il capellaio e te l'avevo detto io che il burro non andava bene per le rotelle aggiunse guardando storto la lepre marzolina ma era burro imparzialmente scremato si scusò remissiva la lepre marzolina sì ma devono esserci finite dentro delle briciole brontolò il cappellaio non avresti dovuto spalmarlo dentro con il coltello del pane la lepre marzolina prese l'orologio e se lo rigirò fra le mani con aria desolata quindi lo pucciò nella sua tazza di tè torno a guardarlo ma non le venne in mente nient'altro che la sua osservazione di prima il burro imparzialmente scremato il migliore ti dico Alice sbirciò da sopra le sue spalle incuriosita che orologio strano osservò dice i giorni del mese ma non le ore del giorno e perché dovrebbe borbottò il capellaio il tuo orologio segna forse che anno è certo che no ribatte prontamente Alice ma solo perché un anno resta tanto di quel tempo tutto in una volta beh il mio nemmeno disse il capellaio Alice non sapeva più che pesci pigliare l'osservazione del capellaio sembrava non avere alcun significato eppure stavano parlando la stessa lingua temo di non capire disse gentilmente più che poter il giro si è riaddormentato disse il capellaio e gli versò un po di tè bollente sul naso il giro scosse la testa seccato e disse senza aprire gli occhi ma certo certo è proprio quello che stavo per dire io allora hai risolto l'indovinello disse il capellaio rivolgendosi di nuovo ad Alice no mi arrendo rispose Alice qual è la soluzione oh non ne ho la più pallida idea disse il capellaio io neanche disse la lepre marzolina Alice sospirò spazientita mi pare che potreste impiegare meglio il vostro tempo invece di cingillarvi con esso facendo indovinelli senza risposta oh se tu conoscessi il tempo come lo conosco io disse il capellaio non parleresti di gingillarti con esso è un lui lui non capisco che vuoi dire disse Alice naturale che no disse il capellaio scotendo sdegnosamente la testa scommetto che tu col tempo non c'hai mai neanche parlato forse parlato no rispose Alice cautamente ma so che quando studio musica devo battere il tempo a ecco spiegato tutto disse il capellaio lui non tollera di essere battuto invece se fossi in buoni rapporti con lui ti sistemerebbe le lancette secondo come ti gira per esempio immagina che siano le nove del mattino ora di cominciare le lezioni basterebbe dirgli una parolina e via che le lancette si spostano in un batter d'occhio su mezzogiorno e trenta pronto in tavola magari mormorò tra sessa e la lepre marzolina sarebbe il massimo proprio disse Alice pensierosa ma poi potrei anche non aver fame non subito forse disse il capellaio ma potresti tenerlo fermo su mezzogiorno e trenta finché ti pare è così che fate voi chiese Alice il capellaio scosse tristemente il capo io no rispose abbiamo litigato il marzo scorso giusto prima che lei questa qua diventasse matta capisci e agitò il cucchiaio verso la lepre marzolina è stato al super festival organizzato dalla regina di cuori io dovevo cantare brilla brilla pipistrella se sei ciucca sei più bella forse conosci la canzone ho già sentito una cosa simile disse Alice poi fa così continuò il cappellaio ricordi voli sghemba notte fonda ciucca marcia ma gioconda brilla brilla a questo punto il giro si riscosse e si mise a cantarellare nel sonno brilla 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 e continuò così a lungo che dovettero dargli un pizzicotto per farlo smettere morale non avevo neppure finito la prima strofa disse il cappellaio che la regina balzò in piedi e gridò con voce sincopata stanno ammazzando il tempo voglia dacci un taglio che sanguinaria esclamò Alice e da allora continuò il cappellaio con voce lamentosa lui non vuole più fare niente di quel che gli chiedo adesso sono sempre le sei Alice ebbe un lampo di intuizione allora è per questo che ci sono tutte queste tazze da te sì proprio per questo disse il cappellaio con un sospiro è sempre l'ora del tè e non abbiamo neanche un minuto per sciacquare le tazze fra un sorso e l'altro così dovete sempre cambiare posto vero disse Alice proprio così disse il cappellaio man mano che le tazze sono sporche ci spostiamo ma che succede quando ricominciate il giro si arrischiò a chiedere Alice e se cambiassimo argomento interruppe la lepre marzolina con uno sbadiglio mi sta andando il latte alle ginocchia propongo che la signorina qui presente ci racconti una storia spiacente ma non ne so disse Alice piuttosto allarmata dall'invito allora tocca il giro urlarono insieme gli altri due svegli a giro e presero a pizzicarlo da una parte e dall'altra il giro aprì lentamente gli occhi becca dormivo disse con una vocina roca roca ho sentito tutto quello che stavate dicendo carini raccontaci una storia disse la lepre marzolina sì ti prego supplicò Alice e un po alla svelta anche concluse il cappellaio o tiri addormenti prima di averla terminata c'erano una volta tre sorelline cominciò il giro in tutta fretta chiamata e Elsie Lessie e Tilly che vivevano in fondo a un pozzo e di che cosa vivevano disse Alice che nutriva sempre un profondo e vivace interesse per le questioni di cibarie vivevano di melassa disse il giro dopo averci pensato un paio di minuti ma non stanno in cielo né in terra osservò Alice più gentilmente che poteva si sarebbero ammalate infatti lo erano disse il giro ammalatissime Alice cercava di immaginarsi una vita così fuori dal comune ma era roba da perderci la testa così continuò ma perché abitavano in fondo a un pozzo ma prendine di più di te disse la lepre marzolina Alice con estrema serietà se finora non ne ho avuto nemmeno una goccia rispose Alice piccata non posso certo prenderne di più vuoi dire che non puoi prenderne di meno disse il cappellaio prenderne di più di niente facilissimo a te nessuno ti ha chiesto niente disse Alice e poi sarei io quello che critica esclamò il cappellaio trionfante Alice non sapeva proprio cosa ribattere perciò si versò un po di te e prese una tartina imburrata quindi si rivolse al giro e ripete la domanda perché le tre sorelline abitavano in fondo al pozzo il giro impiegò di nuovo un paio di minuti per pensarci su e poi disse era un pozzo di melassa ma non esistono salto su Alice alquanto stizzita ma il cappellaio e la lepre marzolina le fecero e il giro in musonito osservò cerca di essere un po più educata se no la storia te la finisci da sola no per favore va avanti disse Alice non ti interrompo più dopo tutto può darsi che uno ne esista altro che uno disse il giro indignato ma continuò ugualmente orbene devi sapere che le tre sorelline stavano imparando a disegnare schizzi schizzi di che cosa disse Alice dimenticandosi subito della promessa di melassa disse il giro stavolta senza un attimo di riflessione voglio una tazza pulita disse il cappellaio spostiamoci tutti di un posto detto fatto il giro lo seguì la lepre marzolina andò al posto del giro e Alice piuttosto contrariata prese il posto della lepre marzolina l'unico a essere avvantaggiato dal cambiamento era il cappellaio mentre Alice era messa molto peggio di prima visto che la lepre marzolina aveva appena rovesciato il brico del latte nel suo piatto Alice non voleva offendere ancora una volta il giro e con molta cautela modulò un ma io non capisco da dove li prendevano le tre sorelline questi schizzi di melassa o se si possono prendere schizzi d'acqua da un pozzo d'acqua disse il cappellaio converrai che si potranno anche prendere schizzi di melassa da un pozzo di melassa no grulla ma loro stavano dentro il pozzo disse Alice al giro decidendo di sorvolare su quest'ultimo epiteto ma certo che stavano dentro il pozzo disse il giro non farmi uscire il pozzo questa risposta sconcertò a tal punto la povera Alice che per un po lo lasciò continuare senza interromperlo imparavano a disegnare schizzi continuò il giro sbadigliando e fregandosi gli occhi sentendosi cascare dal sonno e schizzavano cose di ogni genere tutte quelle che cominciano per m e perché per m disse Alice perché no disse la lepre marzolina Alice non fiatò nel frattempo il giro aveva abbassato le palpebre era già belle in coma quando grazie a un pizzicotto del cappellaio si svegliò di soprassalto con uno squittia continuò cose che cominciano per m come macachi meteoriti memoria massima sai che si dice in linea di massima hai mai visto lo schizzo di una linea di massima per la verità adesso che me lo chiedi disse Alice molto confusa non mi pare allora faresti meglio star zitta disse il cappellaio quest'altra villania era più di quanto Alice potesse sopportare si alzò profondamente disgustata e si allontanò il giro si addormentò di botto e gli altri due non sembrarono fare alcun caso la sua partenza benché lei di tanto in tanto si voltasse a guardarli forse sperando che l'avrebbero richiamate indietro l'ultima cosa che vide fu che stavano cercando di pucciare il giro nella teiera comunque lì non ci ritorno più disse Alice incamminandosi per il bosco è il tè più stupido che abbia mai preso in vita mia e nel dire ciò notò che uno degli alberi aveva una porta d'ingresso questo sì che è strano pensò ma oggi tutto è strano tanto vale entrarci subito ed entrò e di nuovo si ritrovò nel lungo atrio accanto al tavolino di vetro stavolta ce la devo fare si disse e cominciò col prendere la piccola chiave d'oro e aprire la porta che dava sul giardino poi si mise a sbocconcellare il fungo di cui aveva conservato un pezzetto in tasca e quando fu alto non più di 30 centimetri entrò nel piccolo corridoio dal quale finalmente passò nel bel giardino tra le aiuole rilucenti di colori e i freschi zampilli delle fontane grazie 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 grazie